Nella settimana dell'olio a Bieste siamo con l'assessore all'agricoltura Dario Caslino. Tante novità anche quest'anno, quale sarà il filo conduttore? Il filo conduttore è come sempre l'olio, fortunatamente, perché abbiamo iniziato questo percorso sei anni fa, quindi questa con la sesta edizione, puntando tantissimo su questo nostro prodotto principe, che è quello dell'olio d'oliva. Soprattutto, oltre alle tante novità, il grande piacere di quest'anno è vedere tante aziende che partecipano. Siamo passati dalle sette aziende dello scorso anno alle sedici di quest'anno, quindi vuol dire che finalmente la gente e le aziende produttrici, gli operatori del settore, iniziano a capire l'importanza di questo evento, di questo prodotto, che sta facendo parlare di sé la settimana dell'olio anche oltre la Puglia, quindi in tutta Italia. Ci saranno tanti interventi da parte di professori, da parte di docenti, che vengono da altre parti della nostra penisola, quindi grande risultato anche da questo punto di vista per quanto riguarda i relatori. E l'obiettivo principale è quello di far diventare Bieste città panel con una sala panel. A che punto siamo? Allora, diciamo che l'obiettivo di questa manifestazione è quello soprattutto di creare cultura in quello che è il mondo leario, quindi quando si innalza, quando si punta a fare cultura sicuramente crescono tanti e tutto il settore cresce, prende coraggio e inizia un percorso molto più ambizioso. Uno di questi obiettivi è anche quello di creare una sala panel, quindi poi mettere all'interno di questa sala panel degli assaggiatori ufficiali, gli assaggiatori professionisti che possono valutare il prodotto del nostro territorio. Questo è uno dei passaggi che il prossimo anno cercheremo di fare come amministrazione, quindi riuscire a portare nella provincia di Foggia, non esistono, e anche in tutto il nord barese, da Bari a Stoli da Su non ce ne sono, riuscire a portare a Bieste la prima sala panel, che è importantissima per fare un olio di qualità, e poi creare cultura per arrivare anche a creare proprio un panel di professionisti, di assaggiatori professionisti, casomai con la maggior parte delle persone che siano viestane, quindi creare ancora dei percorsi di formazione, dei corsi di assaggio di secondo livello per chi l'ha fatto già quello di primo livello, per creare degli assaggiatori professionisti. Con la speranza di vedere in tutti i ristoranti di Bieste, ma anche del resto del Gargano, l'olio made in Bieste, made in Gargano, sulle tavole. Assolutamente sì, questo era al monte, quando siamo partiti con questo progetto, avevamo proprio come idea quella di portare in tutti i ristoranti di Bieste l'olio di Biesteano. Deve essere un olio di qualità, quindi dobbiamo puntare alla qualità, migliorarla, e portare l'olio di Bieste sul territorio, nei ristoranti. Fare una cartina degli ristoranti che utilizzano di Bieste è uno degli altri obiettivi che sono posti, quindi si sta lavorando in quest'ottica. Deve essere un percorso che deve far rendere partecipi tutti i protagonisti di questo settore, quindi dal produttore, ai frantoiani, ai distributori, quindi ai ristoratori, e quindi poi al prodotto finale, quindi a chi deve comprarlo poi il prodotto olio. Ci stiamo riuscendo abbastanza bene, è un bel percorso, è quest'anno una settimana dell'olio ricca di avvenimenti, ricca di eventi, che daranno un valore aggiunto a questo settore. Sabrina Pupillo, coordinatrice della settimana dell'olio, che torna a Bieste con tante novità. Quali? Tra le novità di quest'anno abbiamo un'interessante esperienza di cocktail all'extravergine per intrattenere anche il pubblico e passare la conoscenza dell'olio e dei suoi utilizzi più versatili. Abbiamo inoltre un laboratorio sul pane, quindi l'avvenimento anche pane e olio, con Salvo Cravero, che è uno chef, maestro nell'arte della panificazione, e anche docente per le scuole del Gambero Rosso e per diverse accademie. E poi i soliti appuntamenti, degustazioni sul Trabucco, negli Olivetti, concerti, musica, trekking? Sì, abbiamo confermato molti degli appuntamenti degli scorsi anni che hanno sempre riscosso successo e quindi abbiamo pensato di mantenerli implementando, facendo magari delle variazioni, dei miglioramenti negli anni. Un'altra importante novità di quest'anno è la possibilità di confrontarsi con altri produttori, anche di altre zone. Quindi ci sono degli interventi, degli appuntamenti dedicati soprattutto agli operatori del settore. Sono appuntamenti formativi, quindi avremo ad esempio Vittorio De Rosa, che è ex funzionario della repressione frode di Salerno, il professore Tommaso Ganino dell'Università di Parma, che faranno degli appuntamenti su comunicazione al consumatore, quindi etichettatura, tracciabilità e sulla gestione corretta dell'oliveto. E poi incontreremo dei produttori che fanno olio di alta qualità da altre zone d'Italia, con i quali installeremo un confronto per ampliare le nostre conoscenze, anche relativamente alle caratteristiche sensoriali di oli provenienti da altre aree dello stivale. Vieste Città Panel, siamo pronti? Ci stiamo preparando, stiamo lavorando con l'amministrazione comunale in un progetto molto ampio che riguarda l'olio, che comprende la settimana dell'olio, il concorso extragargano, le attività formative. Stiamo arrivando alla costituzione, quindi alla creazione di una sala panel e parallelamente lavoreremo anche quest'inverno sulla formazione per creare anche dei nuovi assaggiatori su Vieste.